Continuano a Mazzara del Vallo gli appuntamenti di Blue Zealand, manifestazione di cooperazione internazionale sulla pesca sostenibile nel mar Mediterraneo, con un ricco programma di attività che si svolgeranno tra oggi e domani, ultima giornata. Questa mattina si è parlato di invasione biologica marina e pesca con uno studio sulla mitigazione del danno e adattamento nel contesto del cambiamento climatico, focus anche sui beni culturali come elemento propulsivo dell'economia della Sicilia. E' proseguito poi il dialogo sulle zone di pesca e sulla cooperazione transfrontaliera nel Mediterraneo. Ancora spazio alla valorizzazione dei prodotti ittici, ad un consumo informato e sostenibile della filiera della pesca e alle misure da adottare per favorire la competitività e la resilienza delle imprese. Oggi pomeriggio alle 16, la sala di partimento della pesca mediterranea di Piazza della Repubblica spazio start-up con l'Istituto Damiani di Marsala. Alle ore 16.30 al Teatro Garibaldi flag torri e tonnare del litorale trapanese con la presentazione degli itinerari del gusto. Alle ore 17.30 presso il Teatro Garibaldi si parlerà invece delle donne del mare. Come per ogni giornata previsti show cooking ed ingresso libero con prenotazione in Piazza della Repubblica alle ore 12.30.18.19.20. Uno in più domani sera alle ore 21.00 per la serata conclusiva. Ricordiamo che Blusiland è promosso dal distretto della pesca e crescita blu e organizzato dal centro di competenza distrettuale dell'Osservatorio della pesca mediterranea. In collaborazione con la regione siciliana, il comune di Mazzara del Vallo, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento degli Affari Extrarregionali della Presidenza della regione siciliana, assessorati regionali dell'agricoltura, delle attività produttive, turismo, sport e spettacolo, dell'istruzione e formazione professionale, dei beni culturali e dell'identità siciliana, del territorio ambiente e della salute, anche dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo e FormezPAP.